Gianni Rivera, qualcuno dice il più grande calciatore che abbia mai avuto l'Italia? Beh, se lo dicono gli altri, mi fa piacere. Tu sei... allora, devo dire che io sono sempre stato un tuo fan e grazie a te ho cominciato a tifare Milan. Devo anche dirti che nella solitudine nel seminario ascoltavo di nascosto sotto la radiolina e quindi quando vinceste la Coppa dei Campioni per me era una sola... c'era la prima Coppa dei Campioni. Comprai anche un tuo autografo a 500 lire. Ah, e chi li vendeva quello? Ma non lo so, uno dice, ho l'autografo di Rivera, lo vuoi comprarmi? Perché sapevano che io ero un tuo fan. Ma pensate, sapendolo non avrei firmato. Però con il tempo, diventando grande, ho capito che avevo scelto bene. Perché tu sei sempre stato un ribelle. Perché? Moderato. Un ribelle moderato. Avevo un'attenzione alle cose che dicevo e cercavo di ribellarmi il più elegantemente possibile. Perché se c'erano alcune cose da dire, era bene che la gente le sapesse. E soprattutto, essendo capitano del Milan, lo facevo in funzione dell'interesse del Milan e dei miei compagni. Per cui molte volte parlavo di cose importanti e significative a difesa del nostro spogliatoio. Sì, vabbè, insomma, tu hai detto che protestavi in maniera moderata. Però quante giornate di squalifica ti hanno dato? No, una volta mi hanno dato qualche domenica. Le ultime domeniche del campionato che si doveva giocare, mi pare di ricordare nel 73 o cose del genere. Perché parlai che la categoria arbitrale si era organizzata per non farci vincere il campionato. Ho detto un po' una cosa di questo genere, ma ho raccontato le cose che dicevamo negli spogliatoi. Ma era vero? Cioè che si erano organizzati? Ma l'impressione era quella. Io non ho la prova che fosse andata veramente così. Però la sensazione e i comportamenti arbitrali sul campo mi faceva pensare che fosse davvero così. Poi ti hai rimesso contro lo bello che era il re degli arbitri, la star. No, beh, lui a un certo punto il presidente e l'allenatore del Milan andarono da chi disegnava gli arbitri a chiedere che non ci mandassero più lo bello. Perché quando vedeva rosso-nero perdeva l'equilibrio. E per un po' è rimasto lontano dai campi. Però stavamo in testa e quindi la cosa sorprendeva che non venisse l'arbitro migliore italiano. E quindi ce l'hanno mandato e ce l'ha fatta pagare. Allora Gianni, tu però hai fatto anche altre proteste. Tu hai protestato per la categoria dei calciatori. Cioè tu dicevi che ci trattano come bestiame. Sì, io sono stato tra i fondatori dell'associazione calciatori, insieme a Bulgarelli, Mazzola, Desisti ed altri. C'era anche Losi allora, sì. Lui aveva qualche anno in più di noi, ma era tra quelli che partecipavano alla nascita dell'associazione calciatori organizzandoci per aiutare i più deboli. Noi non avevamo bisogno dell'associazione per essere garantiti nella nostra professione. Ma molti giocatori di categoria inferiore spesso si trovavano a non ricevere più lo stipendio appena le società capivano che il campionato non lo potevano più vincere. E quindi non pagavano più i giocatori. Allora l'associazione nasce in funzione di queste squadre. Oggi, poi torneremo al passato, ma oggi a distanza di da tanti anni tu ti stai battendo anche, ti sei battuto per i giovani. Cioè come, tu cosa sei stato presidente? Sono stato presidente del settore tecnico, presidente di Coverciano, del settore tecnico e del settore giovanile. Ho fatto le due presidenze. Però anche lì ti sei battuto per qualcosa? Lì mi imbattevo sempre per l'interesse di chi rappresentavo, ovviamente. Poi mi ero interessato a Coverciano e ho cominciato anche a fare il corso allenatori, cosa che non avevo mai pensato di fare, per vedere come funzionava l'attività. E poi mi mancava solo l'ultima parte per diventare allenatore professionista. è successo un fatto un po' particolare, nel senso che c'era Tavecchio, presidente della federazione, che grazie a lui, Cefering era diventato presidente dell'UEFA. E quindi lui è venuto a Roma a ringraziare Tavecchio e la stività della federazione italiana, perché aveva capito che senza del loro appoggio non avrebbe fatto il presidente. E allora Tavecchio gli ha chiesto se potevano darmi il titolo di allenatore professionista. Mi mancava l'ultimo corso. Gli altri due li avevo fatti per vedere come funzionavano. Mi mancava solo il terzo, l'ultimo, quello da professionista. E ho detto, scrivimi una lettera, gli ha detto. Tavecchio gli ha scritto questa lettera che Cefering gli chiedeva. E Cefering gli ha risposto che è una cosa che non è possibile, per cui se vuoi aiutare Rivera, aiutalo in un altro modo. E così ha detto di no. A quel punto ho deciso di fare il corso, l'ultimo corso, e poi mi sono presentato agli esami davanti alla commissione e ho avuto il corso di allenatore professionista. Finito quello ho avuto il titolo di allenatore professionista, per cui oggi potrei allenare chiunque. Ah sì? Ma ti piacerebbe allenare? Eh sì, se dovesse succedere, volentieri. Il problema è che ormai il calcio mondiale è pieno di procuratori. Oggi i procuratori fanno un piccolo corso. Una volta neanche facevano il corso. Si iscrivevano all'albo dei procuratori chiunque volesse farlo e lo facevano. Adesso sembra che debbano dare un piccolo esame, però io non ho interesse con nessun procuratore, quindi è probabile che le società che hanno gli accordi anche con i procuratori decidano di non appoggiarsi a quelli che non hanno il procuratore. Ma perché tu, essendo definito il miglior giocatore che l'Italia abbia mai avuto, sei sempre stato fuori da tutti i giochi? Cos'è nella natura per essere così? Perché io sono limpido, sono sereno, non ho niente alle spalle, né dietro né davanti. Forse sono meno condizionabile e quindi mi mettono da parte. Però mi hanno dato responsabilità importanti, perché la presidenza del settore giovanile e la presidenza di Coverciano sono state presidenze importanti nella federazione. Oggi faccio parte del Club Italia, che però si muove poco perché con il virus che circola si è un po' fermata l'attività di appoggio. E quindi siamo lì, facciamo parte del Club Italia, ma aspettiamo di capire quando sarà il momento di poterci muovere. Diciamo che sono insignito del valore del presidente della federazione all'interno del Club il momento in cui potremo lavorare. Allora, tu hai fatto parte di un calzo magico che oggi non c'è più. Chiaramente i ragazzi, non è un dire che in passato era meglio, però c'erano dei valori che oggi sono diversi. C'era un valore per la maglia. Il mondo è cambiato. Oggi, ragazzi, una volta trattavamo direttamente con il presidente della società il nostro ingaggio annuale. Adesso ci sono i procuratori che pensano a tutto e quindi i calciatori hanno tutto un altro atteggiamento. Però, negli spogliatoi, io facessi l'allenatore, negli spogliatoi i calciatori non li farei entrare col telefonino. Perché? Perché è bene che lo usino quando sono a casa loro, non dentro gli spogliatoi prima di giocare una partita. Certo. E invece pare che possano farlo. Forse qualcuno ci proverà anche a portarselo in campo prima o poi. Beh, già uno ha fatto gol con una bottiglietta, fra un po' farà gol col telefonino. Ti dirò di più. Fra un po' farà gol col telefonino, mentre riprende in diretta. In diretta. Quindi vedrai, fra un po' ci saranno, fra un po' metteranno, se va bene così, fra un po' metteranno che ne so sulla testa dei calciatori, come una fascetta con una telecamera. Io credo che la federazione internazionale e quella nazionale non arriverà a questo. Per fortuna nessuno di questi presidenti sono indirizzati a questa strada. Allora, perché tu diventi un bravo calciatore? Perché tu da ragazzino diventi un bravo calciatore? Perché sono nato con queste qualità. Io, mio padre mi ha trasmesso la sua voglia di giocare a calcio che gli era stata impedita da suo padre, perché vivendo in campagna, suo padre gli diceva tu mi servi a lavorare ai campi, non andare a giocare a pallone. E però lui aveva questa grande passione e penso che l'abbia trasmessa a me. Ma tu pensi che... Ok, un conto è la passione, un conto è l'abilità. Uno può avere una grande passione e essere una schiappa. Sì, lui mi ha trasmesso la passione e io ho contribuito con le mie qualità tecniche di accettare questa passione. Ma secondo te una qualità deriva da una vita precedente? E quello non... Può darsi di sì, può darsi che arrivi da una vita precedente, che però non so di chi è. Perché ad esempio, tu ti dicevano è un ragazzino nato vecchio. Perché? La prima volta che qualcuno... Gipo Viani ha detto... Presidente del Milan. Era direttore generale, che era quello che mi aveva voluto al Milan, che mi ha detto tu sei nato vecchio, perché avevo già questa immagine della persona quadrata, responsabile, fin da quando avevo 16-17 anni. e quindi probabilmente è nata da lì. E poi qualcuno l'ha ripresa. Ma lui l'aveva detto con la convinzione, perché come mi sentiva parlare, ragionare, muovermi, gli è venuto spontaneo dirmi che sembrava un vecchio. E forse ci hai portato nel bagaglio delle esperienze e quindi eri... Può darsi che qualcuno mi abbia messo nel mio bagaglio tecnico, scientifico, queste qualità, queste doti e io ne ho approfittato, non le ho buttate via. Tu, se non sbaglio, sei stato il calciatore giovane più pagato? Cioè, quando il Milan ti comprò, fu allora un... Prima, il passaggio dal Milan, dall'Alessandria al Milan, in quell'anno, fui il giocatore più pagato. Però il Milan pagava solo la metà, perché per metà mi aveva già preso quando mi ha fatto il provino. E poi mi ha lasciato all'Alessandria, però per metà mi aveva già preso. Quindi tu... Quindi mi ha pagato la metà. La valutazione è stata di 130 milioni di lire di allora. Che è uno sproposito. Che era uno sproposito. Quanti anni avevi? 16. La valutazione è nata quando io stavo per compiere i 17 anni. Perché finite le Olimpiadi che abbiamo fatto a Roma, sono arrivato a Milano, ho preso il treno da Alessandria, sono andato a Roma per le Olimpiadi. Poi ho preso il treno da Roma per Milano, perché i miei nel frattempo si erano trasferiti a Milano, dove ho definitivamente portato la mia abitazione, perché il trasferimento al Milan era avvenuto subito dopo. Tanto è vero che qualcuno sosteneva che non potevo fare le Olimpiadi perché ero professionista. invece non ero professionista. Mi stava prendendo una squadra di professionisti. Ma io in quel momento ero ancora dilettante. Senti, ma tu non ti sei mai stupito di come facilmente ottenevi dei risultati incredibili? No, era la mia natura. A me sembrava una cosa normale. Non ho mai pensato a un fatto eccezionale. Se una cosa nella vita succede, evidentemente vuol dire che gli esseri umani possono farla succedere. Non può essere considerata una cosa che arriva dal cielo. È certamente un dono di Dio, però poi lo devi sfruttare tu. Non è che Lui continua a muoverti. Ti regala questa dote, però dopo ti devi arrangiare tu e devi essere tu a non rovinarla. Come nella parabola dei talenti. Ti dà un talento. Ti dà un talento, però se poi lo butti via è colpa tua. Mica io posso ancora continuare a reggerti il talento. Io te lo do. Tu dopo ti arrangi. Ma nella tua calma, nella tua, direi, quasi consapevolezza, ci sono stati dei momenti in cui ti sei veramente emozionato per un risultato raggiunto? O no? Direi, no, direi... No, beh, io credo che il momento in cui mi sono davvero sentito segnato è stato quando ho fatto il gol del 4-3 ai mondiali del Messico contro la Germania, perché essendo stato io responsabile di non aver fermato la palla col petto mentre la Germania faceva il 3-3, perché Müller ha preso la palla di testa male e mi ha preso in contropiede. Io ho messo il petto ma la palla è passata e mi sono sentito responsabile per cui mi sono girato verso Albertosi che protestava in modo violento. Gli ho detto mi tocca andare a fare gola altrimenti non posso tornare in Italia. Era velleitario, ovviamente, perché pensare di andare a fare gola... Però l'idea mia era quella di farmi dare la palla, dribblare tutti i tedeschi e andare a fare gola. Però era un'idea molto velleitaria per cui come mi hanno dato la palla ho guardato e ho visto tutto bianco e ho detto secondo me non gliela faccio e mi sono arreso e ho dato le maglie dei tedeschi. E quindi ho ridato la palla ad Essisti che le ha data in profondità verso Boninsegna che si era allargato e io seguivo l'azione. Boninsegna era partito per andare a tirare in porta però Schultz lo spingeva di spalla regolarmente allontanandolo quindi lui ha dovuto accontentarsi di mettere la palla in mezzo sperando che arrivasse qualcuno e io stavo arrivando e la cosa che mi ha colpito e per quello che ritengo che sia una cosa eccezionale io ero convinto di avere fatto gol di sinistro perché la mia prima idea era di arrivare sulla palla e calciare nella porta vuota perché il portiere della Germania si era messo sul primo palo e quindi c'era la spazio e quindi l'idea era di metterla di collo sinistro o di là invece poi mi sono accorto guardandola in televisione non me ne ero accorta sul campo che ho fatto finta di tirare ho appoggiato il sinistro e di piatto destro l'ho messa dentro la porta vuota così come si vede in televisione e quello per me è stato un fatto particolarmente eccezionale non mi ero accorto di aver cambiato piede e quella è l'unica volta in cui ti sei emozionato sì quella non è che mi sono emozionato adesso non esageriamo mi sono stupito ma da dove salti fuori è un alien mi sono stupito è un alien è un alien no ma io sono no ma vabbè poi dopo dopo ti dico io non mi stupisco minimamente io ho capito che tu non ti emozioni perché 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 mi rimane dentro ma non neanche mi rimane dentro l'emozione no mi sento naturale ma perché lui ha la consapevolezza di quello che sta facendo e il risultato e la logica conseguenza è tutto quello che Viani aveva capito di me che sono nato vecchio no ma i vecchi no Gianni però i vecchi possono anche emozionarsi sì però però se tu sei vecchio avendo 16 anni è tutto diverso la responsabilità psicologica e intellettiva dei vecchi che hanno 16 anni la portano bene uno della mia età è chiaro che se gli dicono che è del vecchio se ha del vecchio è normale ma se dicono a uno di 16 anni che è del vecchio vuol dire che si sente responsabile è però Grella ha detto una cosa interessante della consapevolezza no tu quella che ha detto no no non mi filmare della consapevolezza perché tu tu sembra sembra guarda io ho letto il tuo libro anzi Laura me lo porti qui che mostro questo libro spesso io ho letto io ho letto il tuo libro e diciamo da quello che io allora io so di te tantissime cose ma da tifoso ti dirò di più ti dirò di più guarda guarda questo libro questo libro è un capolavoro a parte che è grosso dei livelli cioè è dentro 40 per 40 30 per 30 è 54 chili 4 chili e dentro ci sono tutti i giornali tutte le cose abbiamo sai come è nato questo il libro è nato da lei sì da mia moglie su questo non c'è dubbio ma grazie a tutta la documentazione che mio padre raccoglieva anno per anno nelle scatole dove si tenevano le camicie e metteva sopra l'anno toglieva la camicia perché è chiaro che la doveva mettere una camicia e però una di quelle scatole c'era l'anno con tutti i ritagli dei giornali di allora di quando giocavo da quando avevo 16 anni fino a che ho smesso e finché mio padre è stato in vita e ha raccolto tutto e metteva nelle scatole e le teneva noi avevamo un appartamento a Milano con una scala che ci portava a un terrazzo che era grande come l'appartamento e sotto la scala mio padre metteva tutte quelle scatole che io ho ritrovato dopo che era morto mio padre ma dopo che era morta anche mia madre e quando siamo andati a portare via tutte le cose abbiamo trovato quelle scatole con tutta questa documentazione che ha consentito a mia moglie di fare il libro e la seconda politica da quando ci siamo sposati l'ho tenuta io invece l'altra parte della politica l'ha tenuta mia moglie lui avrebbe buttato via tutto pensa ma perché per lui è normale sì ho capito ma non è normale per te per te allora per te è normale sì per lui è normale infatti io mi sono però mi ha fatto piacere che non abbiamo buttato via tutto perché il libro è venuto è venuto molto bello però denota anche l'amore che tuo padre aveva per te le tue pagine e si può anche comprare lì sul sito sì sul sito giannirivera.it si può comprare ed è un libro capolavoro guarda è grande che rosso guarda senti allora ok quindi tu hai questa consapevolezza ma tu non ti emozioni neanche quando il Milan vince la prima coppa dei campioni col Benfica 2 a 1 no si emoziona quando lo faccio incacchiare quello si è quando te lo fai arrabbiare si si se farmi arrabbiare allora è come se mi emozionassi allora io io che ragazzino ascolto il Milan vince due gol di Altafini ho tutto in mente che ne so o quando l'altra che poi Altafini mi ha chiesto scusa sul secondo gol perché ha portato via il pallone a me perché io ho intercettato il passaggio fra due difensori del Benfica e lui da dietro è passato ed è andato via verso la porta altrimenti andavo io e lui mi ha detto eh ti ho portato via il gol come spiego il fatto che non si emoziona perché lo capisco cioè vabbè è brutto parlare di se stessi ma io non mi emoziono io davanti a Fidel Castro davanti a Mick Jagger non mi emoziono e perché ti emozioni cioè uno dice ma sei emozionato ad intervistare no e mi fa piacere che è un'altra cosa esatto esatto cioè ma sai poi noi abbiamo delle immagini perché sai come tifosi io ad esempio ho l'immagine di quella coppa di campioni che avete vinto in realtà nella semifinale col Celtic con Pierino Prati che fa quella sgropata e vincete 1-0 a Celtic abbiamo vinto in trasferta proprio esatto quindi la cosa era diventata importante poi la finale è stata l'Ajax non era ancora abbastanza forte poi ho un'immagine incredibile in nazionale tu hai fatto un passaggio pazzesco a Prati che si è tuffato e Rosaterra di testa ha fatto gol Epoca gli diede la copertina a quella foto di quel gol mi ricordo Eh ma io io e Prati funzionavamo bene Sì Quali sono stati i tuoi compagni con cui hai funzionato meglio? Tutti tutti a seconda del ruolo perché è chiaro che se uno deve far gol devi metterlo in condizione di far gol se uno non deve prenderlo devi aiutarlo a non prenderlo Ma come era Prati simpatico? Sì un ottimo ragazzo Sì sì Ma facevate strategie prima di andare in campo? Che strategie Lui sapeva che doveva andare verso la porta per far gol e io mentre lui andava verso la porta gli dovevo dare il pallone perché lui facesse gol questo valeva valeva per lui per Altafini per Sormani per Amring per una volta c'era Danova Sì mi ricordo i miei primi anni tu pensa che io e tu pensa che io la prima volta che andai allo stadio mi portò mio padre a vedere fra l'altro una partita sfortunatissima che era Bologna Milan dove Mora gli rupperò la gamba e quello me lo ricordo anche perché si ruppe la gamba nonostante l'arbitro avesse già fischiato il fuorigioco lui a lui ha continuato la corsa ha tentato di tribare il portiere nessuno dei due e c'era accorto che l'arbitro aveva già fermato il gioco e lui ha dribblato il portiere il portiere invece di prendere la palla ha preso la tibia ecco e lì è finita la carriera della tibia brava la destra che aveva Mora ma la prima impressione è incredibile perché io vedevo sempre partiti in bianco e nero e vedere il colore il verde del prato era una roba faceva effetto poi mio padre mi portò a vedere Spal Milan ok e lì riuscii a intrufolarmi perché già allora mi intrufolavo e ti vidi uscire dallo spogliatoio arrabbiato con Amarildo avevate pareggiato e vedendo te che ti arrabbiavi con Amarildo e gli dici ma allora è umano lo sai che dice no ma allora si arrabbia anche lui e qualche volta capitava che tu proprio perché lui aveva sbagliato e tu lo stavi cazziando non mi ricordo più avevamo fatto una discussione probabilmente sì 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 ma lui si sapeva difendere certo tu hai giocato anche con Pelé contro Pelé contro ma era davvero con Pelé avevo creato avevamo un ottimo rapporto cioè da lontano perché lui riconosceva in me certe qualità io lo riconoscevo come il miglior giocatore di tutti i tempi se non ci fosse stato il pallone quando è nato Pelé nasceva il pallone lo faceva nascere lui e quindi siamo rimasti in ottimo rapporto e per cui Pelé nella finale contro il Brasile in Messico ha detto beh allora vince l'Italia se non gioca Rivera chissà che squadra avranno ma l'ha detto per prenderci in giro infatti poi hanno vinto loro e tu non hai giocato e io ho giocato gli ultimi minuti ecco ma perché non ti mettevano su perché tu nel libro dai una spiegazione ma molto edulcorata perché non e continuo a darle edulcorata cioè perché è così ma cos'era sta storia qui della storia ma perché ma non è una cosa che non ha capito bene neanche Mazzola per dire la verità ma ne avete parlato noi ne parlavamo ma questa storia noi avevamo sempre giocato assieme fino fino all'inizio dei mondiali in Messico e dalla fine dei mondiali in poi abbiamo rigiocato insieme nel Messico pare che non potessimo giocare insieme e l'organizzazione poi vabbè adesso sono tutti morti quelli che è inutile parlarne ma ti volevano far pagare qualcosa no e avevano il direttore della gazzetta era filointerista quindi se poteva creare dei problemi al Milan lo faceva e quindi questo era un modo che Mazzola non c'entrava niente in queste cose era una cosa da di quel livello lì il direttore della gazzetta dato che o tu eri reverente nei suoi confronti e allora ti riconosceva qualcosa altrimenti diventavi un nemico se poi lui essendo amico dei Murati poteva fare qualcosa contro il Milan lo faceva volentieri certo e un giornalista aveva tanto potere da condizionare la formazione della Nazione di Calcio italiana perché aveva dei rapporti con il responsabile tecnico della federazione che era il direttore di Coverciano e con Balcareggi ha un po' subito questa cosa però lasciamo perdere tanto ormai non c'è più nessuno di questi e tanto ormai l'Italia ha perso col mondiale tanto ormai era perso perché era perso perché non t'hanno messo su è certo è per quello vabbè dai concordo con Pelè concordi con Pelè ma tu hai visto giocare Maradona perché c'è il dualismo Maradona è meglio Pelè tu l'hai visto l'ho visto giocare Maradona sì sì non ci hai mai giocato contro però no lui ha cominciato dopo ma era meglio Maradona non Pelè o Pelè io preferivo per me Pelè sapeva fare tutto Maradona col sinistro faceva tutto col sinistro Pelè li divideva le responsabilità un po' di destro un po' di sinistro ma con la stessa sensibilità e con la stessa potenza e in più saltava di testa Maradona quando non arrivava di testa metteva la mano la mano di Dio però sì infatti era di Dio mica la sua però Pelè quando arrivava andava a prenderle sempre di testa pur non essendo molto alto perché Pelè era due o tre centimetri più basso di me e però saltava in un modo incredibile senti ma tu non hai mai avuto un procuratore allora non c'erano i procuratori i procuratori sono cominciati a nascere dopo che io ho smesso di giocare cioè ad esempio per spiegare per chi non è avversa il procuratore il procuratore è quello che secondo me guadagnando in ogni trasferimento di squadra a lui conviene che un calciatore passi di squadra a quello sicuramente giusto più può fare cambiamenti e meglio allora il procuratore è quello che ha convinto Donnarumma di andare a fare la riserva nel Paris Saint-Germain invece di giocare titolare nel Milan ma c'è gente che dice così non so senti dopo tu quando smetti vabbè ci serve tanto da parlare in calcio perché avete vinto ah no c'è una cosa importante perché mi sono segnato una roba nel telefonino sai ma perché c'hai il telefonino anche tu sì c'ho il telefonino anch'io allora nel telefonino mi sono segnato questa cosa tu nel 1969 vinci il pallone d'oro quindi miglior giocatore europeo ok sì ma mi piace la motivazione è bellissima in un calcio arido persino cattivo con i troppi dubbi sul doping e premi elevati che deformano la verità Rivera è il solo a dare un senso di poesia a questo sport così l'hanno giustificato dovevano trovare una scusa no ma lui minimizza sempre ogni roba lui sempre è una roba ma lui sai cos'è successo in quella votazione è tremenda il giornalista italiano che partecipava come giurato non mi aveva votato e il responsabile ha detto guarda è meglio che tu dia almeno un voto a Rivera perché Rivera il pallone d'oro lo vince lo stesso ma se tu come giornalista italiano non risulti favorevole a lui fai brutta figura allora lui mi ha dato questo voto ma altrimenti non mi aveva votato però vincevo lo stesso e chi era? non me lo ricordo più sai che quando però tu hai una faccia che in cui quando dici le bugie non ti si allunga il naso ma io non dico bugie ometto delle verità sì quello può essere però la bugia non la dirò non ho mai detto una bugia infatti il naso mi è sempre rimasto uguale allora tu dici una roba che mi ha colpito molto io nel libro l'ho letta vivevo le cose essenziali quelle dello spirito cosa vuol dire? ma che vuoi che ti traduca questa roba sì ma c'è bisogno c'è bisogno ma non c'è bisogno che traduca una cosa così evidente così chiara così elementare tu sei sempre legato più allo spirito che alla materia beh un po' di materia ci vuole sennò come fai lo spirito come fa a vivere da solo c'è solo il virus che vive da solo però noi abbiamo il corpo e quindi un po' di virus ce l'abbiamo che ci aiuta a camminare a muoverci parlare mangiare e via dicendo però senza la materialità non puoi non ho detto materialismo materialità è una cosa diversa al periodo ti prendevano molto in giro perché tu aiutavi padre Eligio sì qualcuno ha fatto qualche battuta poi si sono pentiti io ero perché padre Eligio è venuto veniva a Milanello il vecchio Carraro il padre di Franco quello che poi è diventato presidente dopo che è morto il padre è andato una volta a Piazza Sant'Angelo ad ascoltare una messa e la stava dicendo padre Eligio che era un frate giovane che cominciava e lo ha colpito quando lui ha fatto il commento al Vangelo che aveva letto lo ha colpito molto per le cose che diceva e allora è andato a chiedere al responsabile del convento se gli poteva mandare questo frate a Milanello a parlare con la squadra con i giovani soprattutto con i giovani perché per Milanello i giovani erano un po' messi così così perché quando uno era preso nei giovani del Milan e viveva a Milanello era convinto di fare il calciatore a prescindere solo per il fatto che era Milanello però non tutti ci riuscivano e quindi rischiavano di non avere idee chiare e lui dato che questo frate di idee chiare ne aveva tutte lo ha invitato ad andare a parlare ai ragazzi di Milanello poi piano piano è diventato il frate della prima squadra perché poi ci veniva a Milanello ci diceva la messa e via dicendo e un certo giorno una volta che ha detto la messa prima di andare allo stadio a giocare uno dei nostri e dei miei compagni non mi ricordo più chi ha detto ma padre Ligio dica una preghiera per farci vincere la partita è una partita importante oggi nostro signore non si occupa di palle in bocca al lupo è il massimo che gli poteva dire e poi io con lui ho costruito una grande amicizia sono diventato uno dei responsabili della comunità di Mondo X e lì lì ha fatto una strage di benessere perché sono tanti ragazzi che sono stati recuperati poi un'ultima cosa del calcio ma tu in Italia Germania in Messico il gol che vi porta il supermerato lo fa Schnellinger che è un tuo compagno di squadra eh sì ma lui l'ha fatto casualmente lui ci ha raccontato che quando ha visto che la partita stava finendo perdevano 1 a 0 non voleva incontrare gli sguardi dei suoi compagni che lo avevano battuto e dato che gli spogliatoi erano dietro la nostra porta lui ha cominciato piano piano ad avvicinarsi perché come l'abito fischiava la fine si buttava negli spogliatoi senza guardarci solo che mentre passava dall'area di rigore gli è arrivata una palla in mezzo e lui si è tuffato ha fatto gol e lì è finita la partita e quindi è per quello che ha fatto gol se no non avrebbe mai fatto un gol ma ho capito ma dopo quando vi siete visti Gostellinger vabbè cosa dice tanto poi abbiamo vinto noi per me anzi per me andava bene perché è successo quel che è successo dopo che lui aveva fatto il pareggio tu sei d'accordo che quella è la partita più storica di tutte le partite di calcio mai giocate io credo questo possiamo chiamarla i supplementari sicuramente perché i 90 minuti erano una partita neanche tanto eccezionale ma i supplementari erano diventati un fatto molto emotivo tecnico e ci stava tutto ci stava tutto il calcio in quei 30 minuti a me certo lo capisco che è stato emotivo perché è l'unica volta che ti sei emozionato quindi te avessi proprio stato proprio così ma inereo Rocco come era a me piaceva a me piaceva amarti il po' Rocco era era la la vita Rocco era così partecipativo che ti coinvolgeva perché lui ogni volta ogni tanto quando adesso ti racconto un paio di cose sue lui la domenica finita la partita andava a Trieste dalla famiglia che era lui la famiglia viveva a Trieste e tornava il martedì pomeriggio per il primo allenamento che facevamo un giorno arriva un po' in ritardo e noi eravamo già lì tutti cambiati aveva italianizzato il triestino per cui parlava sempre così andiamo cominciamo cominciamo vabbè cominciamo me andè su sul fianco della porta verso l'altra me andè su me camminè perché lui aveva come ho detto tradotto tutto il suo linguaggio me camminè me saltè finita la seconda volta stava per dirci la terza volta di andare su di andare su e Maldini che era il capitano triestino come lui si Rocco fantasia gli diceva e Rocco ciò me gherò smentìa aveva bevuto un po' quel giorno lì quando era stato l'assassino e quindi si era dimenticato e lui faceva quelle battute poi non so faceva una battuta dopo l'altra ma tu ti ricordi di io ho conosciuto che mi ha raccontato cose incredibili di quel periodo Guerino Ruffato era il vigilotto Veneto eh sì che era a busto sì se mi pare eh sì che era matto era un po' ti accompagnava ti portava mi raccontava di cose incredibili era un po' tifoso di calcio mi raccontava di un calcio che era fantastico il calcio allora era veramente c'era un rapporto molto umano sì sì sotto quell'aspetto sicuramente un'altra un'altra epoca sì finisce il calcio che cosa fai? finisce col calcio e diventa ma il giorno in cui hai fatto l'ultima partita qual è stata l'ultima partita? ah non mi sono accorto che era l'ultima partita perché in corso d'opera ho deciso di smettere ah cioè minto giocare? abbiamo vinto no abbiamo vinto il campionato nel 79 sì poi è finita la stagione e io ho deciso di smettere per accontentare il nuovo allenatore che era arrivato stupidamente devo dire perché Lidl che aveva chiesto al presidente Colombo un contratto di tre anni perché aveva la famiglia impegnata e via dicendo voleva una garanzia e lui non se la sentiva di fargli un contratto così lungo e allora Lidl ha deciso di andarsene ed è venuto poi giocare a fare l'allenatore della Roma e nel frattempo io ho insistito con Colombo perché prendesse Giacomini che era appena diventato allenatore che era un mio ex compagno di squadra e che prometteva lui non era molto convinto però ci ha fatto convincere da me e quindi l'ha preso come è arrivato ha detto eh ma io c'ho qualche problema con Gianni perché mi può creare dei problemi negli spogliatoi insomma di responsabilità e io ho deciso di smettere per il bene del Milan a quel punto lì ho detto vabbè smetto tanto e così sono diventato vicepresidente del Milan ma ti hanno pugnalato parecchie volte alle spalle così ma ogni tanto capitava però si rompeva il pugnale perché non ti faceva effetto non mi faceva effetto manco quando ti pugnano e anche quello quello dopo mi son pentito dopo devo dire però ormai ero già arrivato avevo quasi 36 anni allora a quei tempi 36 anni non erano pochi forse un paio d'anni potevo ancora giocarli però a quel punto ho deciso anche perché per me nell'interesse del Milan ti smetto avresti fatto la Champions League la Coppa dei Campioni la Coppa dei Campioni eh lo so e invece non l'hai fatta no perché hanno giocato quelli che andavano in campo io ero in tribuna si può dire Pirla in milanese si è così mi sono comportato così poi fate vicepresidente e poi dopo e poi è arrivato a un certo punto è successo quel che è successo con le scommesse e via dicendo Colombo ha deciso di cedere il Milan e l'ha comprato Berlusconi Berlusconi ha provato a comprarlo al fallimento però dato che c'era Armani che era un petroliere che ci garantiva lui era vicepresidente allora e lui diceva guardate io vi garantisco la parte finanziaria se trovate uno che compra il Milan il suo valore bene altrimenti lo posso comprare io bene bravo ottima persona e quindi noi abbiamo detto a Berlusconi che in tribunale non l'avrebbe mai preso il Milan e lui ha deciso di pagarlo il valore nominale l'ha pagato il valore nominale ed è diventato presidente però forse non so se non aveva la voglia il coraggio di mandarmi via mi ha lasciato lì nell'angolo come uno che faceva qualcosa per il Milan e poi strada facendo mi ha progettato l'idea di diventare presidente dei Milan Club a quel punto lì c'era Gorilla e Tabaci nella DC che nel frattempo mi avevano avvicinato perché volevano mandarmi in Parlamento quindi ho accettato subito questa cosa e sono andato in Parlamento e quindi ho lasciato il mail ma in Parlamento ti sei sentito utile o come allora era una cosa importante no perché Gino Paoli mi ha detto io sono andato in Parlamento mi sono reso conto che non servivo a niente no beh in parte ha ragione anche lui perché poi devi fare ci sono quei 7 8 che governano il Parlamento che hanno maggior peso però tu il tuo contributo lo puoi dare se vuoi lo puoi dare tranquillamente certo che non fai delle cose eccezionali i parlamentari per dire la verità fanno poco sul piano personale ci sono pochi che lo possono fare la maggioranza fa numero io ti intervistai perché tu facesti una dichiarazione contro i Rolling Stones perché erano portatori di droga te lo ricordi? si non ricordo si se portavano la droga allora avrei fatto bene no tu dicesti che non dovevano venire perché promulgavano l'uso della droga eccetera non ti ricordi? non me lo ricordo questo fatto e beh se ne abbiamo parlato vuol dire che c'era questo rischio esatto che poi io intervistai anche altri l'Uride eccetera che avevano promulgato la droga e feci un servizio dove ho messo insieme tutti questi e la droga non è che facesse tanto bene no non tanto bene no insomma e ti va la tua carriera politica è stata soddisfacente o no? io tutto sommato sono rimasto soddisfatto purtroppo è finita nel momento in cui mi sono fidato di un di un soggetto del del partito che mi aveva detto ma tu puoi candidarti in un altro collegio perché qui abbiamo bisogno di portare un nostro vai tranquillo che ti infatti non mi hanno eletto e quindi a quel momento ho chiuso poi ho fatto una parte al Parlamento Europeo perché ero il primo dei non eletti però c'è stata una non mi ricordo più chi che ha rinunciato perché è diventata sindaco della sua città e quindi come secondo dei non eletti come primo dei non eletti mi hanno fatto fare negli ultimi quattro anni al Parlamento Europeo e come è stato potevi decidevi qualcosa no lì decidevo poco perché io poi sono entrato a far parte di un gruppetto non ho aderito ai pezzi grossi ma andavi tutte le settimane andavo tutte le settimane sì sì io ero sempre là il sottosegretario è stata una bella esperienza poi è bella quando ho fatto prima avevo fatto il sottosegretario alla difesa ed è stata una bella esperienza gli ultimi cinque anni che ho fatto al Parlamento nazionale ero alla difesa ho cambiato tre primi tre ministri della difesa tre primi ministri e io sono sempre rimasto lì bell'ambiente senti ma questa bionda esplosiva quando l'hai conosciuta l'ho conosciuta al tennis a Milano al tennis sì lei purtroppo è successo un fatto eccezionale se non succedeva era meglio cioè che lei suo padre le aveva suo padre le aveva proibito di venire al tennis perché lei non voleva più giocare a tennis perché giocava a tennis tu lei giocava agonistica sì poi decise di non il suo padre allora l'ha cancellata dal circolo di Milano e per la prima volta dopo tanto tempo ha deciso di venire al tennis a prendere un caffè e io avevo appena finito di giocare mi ero fermato stranamente al bar con una delle socie a bere una cosa e vedo arrivare questa bionda e ho detto ma chi è questa qua la bionda del tennis una confusione sì lei ha questo atteggiamento ha questo atteggiamento sì cioè a differenza lei mi fa lei mi dice guarda è la figlia di amici miei di famiglia te la presento e ci siamo presentati così e poi da lì è partito tutto il disastro e lei è come si chiama il cretino bebe da smetti e così diciamo diciamo che per uno calmo come te lei è perfetta perché lei porta quello che non avevo esatto cioè lei lei ti difende sì è vero lei si occupa aspetta sì sì mi occupo lei mi aggredisce non mi difende no no ti difendo anche dì di no dì di no dì di no dopo avermi aggredito mi difende certo non sei in grado di difendersi da solo ma non è che non è in grado di difendersi no lui no hai sbagliato va beh ho sbagliato a lui non gli interessa difendersi è diverso è diverso ma non va bene ma che interessa non va bene no ma tu sei fatalista cioè se una cosa deve accadere accade se deve accadere accade no ma c'è un limite poi dipende se ci sono delle cose così negative cerco di fermarle però poi se deve succedere cosa dice la bibbia cosa dice la bibbia che bisogna essere molto buoni come agnelli ma molto attenti come serpenti bisogna stare molto attenti e quindi è molto caos ma lui fa la parte dell'agnello e io faccio la parte del serpente e quindi siamo è molto divertenti no l'hai detto tu l'hai detto l'ho capito l'hai detto lei o no noi siamo in due contro lei no no non contro lei noi perdiamo noi perdiamo cerchiamo di difendersi no io mi difendo e dipendo tutta la mia famiglia allora allora tu quante persone hai aiutato nella tua vita? tantissime dici oh tantissimi sento dire quando ho potuto aiutare qualcuno lo faccio sempre sempre no sempre no Gianna sempre abbastanza di la realtà abbastanza come faccio contato è sempre 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 appena potevo aiutare qualcuno lo facevo se ero in grado di farlo lo facevo è sempre stato molto senza problemi ti sei preso delle ad esempio tu calciatore privilegiato ti sei battuto hai preso delle giornate disqualifica anche ti sei in viso tutti perché difendevi difendevo il nostro spogliatorio esatto è certo come hai difeso i ragazzini dai procuratori recentemente eh beh certo però purtroppo oggi non possono fare a meno se non hai il procuratore non giochi ma non sei molto d'accordo se non hai il procuratore non alleni neanche non alleni neanche ma infatti Zoff che allora allora i procuratori non ce n'erano mica tanti in giro però Zoff non ha più allenato perché non ha voluto avere rapporti con i procuratori e questo purtroppo è successo io però non potevo purtroppo io nel corso allenatore l'ho fatto un po' dopo ma quindi tu ma ti piacere allenare anche non una squadra prestigiosa perché non te la danno senza procuratore perché il procuratore deve guadagnare su di te sì ma non secondo me oggi non sono in grado di allenare nessuno perché senza procuratore non non chiamano nessuno ma neanche una squadra di serie B neanche C neanche C no beh sì perché no qualcuno di C può darsi però non lo so perché non però mi interessa poco adesso oggettivamente voglio cominciare un poco un poco più in alto perché non è che ho tanti anni davanti ah sì eh sì così sembra dicono 120 oggi sì adesso dicono 120 ma tu mangi bene io mangio bene ci sono io che gli rompo le scatole gli sto addosso come una serpe diglielo digelo non mi dà da mangiare nel momento opportuno non mi dà da mangiare non è vero sì ma cosa ti dà come gli uccellini del miglio no non è vero non lo mangio lo mangio così sane no ma allora improvvisamente diventi l'eroe d'Italia non per il calcio ma perché da vespa dici che non ti sei vaccinato e diventi l'eroe d'Italia per altri invece perché è bello perché nessuno ha osato attaccarti no cioè la cosa strana è che non ti non ti hanno non ti ha ha dato fastidio da matti questa roba ma tu cioè tu anche qui rappresenti la voce della verità ma io non so se la verità è molto c'è poi sempre un punto interrogativo sulle verità però io ho espresso questa opinione anche perché stranamente mi hanno fatto la domanda perché era morta una ragazza di 18 anni appena vaccinata e quindi questo mi ha dato il via per dire è meglio non immaginarci a questo punto perché se si muore di vaccino è un brutto segno e quindi penso che si può poi ho conosciuto ho sentito molti medici dire che si possono curare il coronavirus si può si può curare da casa con le medicine adeguate e molti medici lo stanno facendo non si capisce perché tutti obbligano a fare il vaccino oppure andare direttamente all'ospedale non si capisce o sospendere questi medici o sospendere questi medici e quindi la cosa poi va a capire ci sono delle cose che sono quasi incomprensibili però io ho espresso la mia opinione facendo conto che se mi dovesse succedere ho dei medici che mi garantiscono di curarmi da casa ma tanti e hanno salvato tutti e hanno salvato io conosco qualcuno di questi medici che conosco mi ha detto che non è mai morto nessuno curandoli da casa e quindi non capisco perché non si possa fare per tutti si no ti dicono di usare la tachipirina notare che il virus muore a 38 gradi e mezza di temperatura quindi tu usando la tachipirina impedisci la temperatura impedisci di alzare il virus cioè noi ridiamo però c'è poco da ridere c'è veramente poco da ridere quindi tu incredibile come nel corso della tua storia sei sempre stato diverso eh sì no però ce ne erano tanti che la pensavano come me la maggioranza no lascia stare l'ultima cosa però tu allora come ragazzino non ti emozioni sei cosciente di quello che devi fare ma sei rimasto amico dei tuoi amici di quelli con cui giocavi al campetto sì abbiamo abbiamo degli ottimi rapporti ma ci siamo persi perché poi quando con Alessandria mi sono rimasti pochi contatti perché qualcuno purtroppo è morto qualcun altro ancora in vita ma attraverso uno ci sentiamo con tutti gli altri ecco da Alessandria e da Milano ma tu il fatto di aver avuto successo come calciatore di Alessandria con la ragazzina di Alessandria sei stato orgoglio per Alessandria spero porca vacca sì bravo ma veramente magari tu vinci coppe intercontinentali tu fai c'è l'unica vacca il gol contro la Germania però il resto il resto sono cose naturali normali sembra quasi che tu sia nato sapendo esattamente qual è il tuo compito e quindi per te svolgere il tuo compito è una cosa normale e perché no dovremmo essere tutti così certo in un campo o nell'altro bisogna essere consapevoli che ci spetta la strada che qualcuno ci ha già tracciato ma nel tuo palmarès è più importante avere vinto il campionato coppa dei campioni pallone d'oro eccetera o aver aiutato delle persone e visto che le ho fatte tutte e due vanno bene tutte e due i due campi sono quelli e quindi visto che mi sono andati bene tutte e due perché rinunciare a qualcuno da quando è che non non fai una partitella da quando ho fatto l'intervento le anche ho dovuto fare non ho avuto mai problemi alle gambe solo le anche e quindi ho dovuto fare due interventi alle anche adesso ho ristretto il campo faccio un po' di tennis ma una volta vi bombavano cioè ad esempio non bombavano di droga ma ad esempio se avevi male a un ginocchio ti facciano giocare lo stesso facendoti infiltrazioni boh io non ho mai avuto quei problemi non mi ricordo di qualcuno no se qualcuno aveva le ma ti sei mai infortunato seriamente? mi sono fatto qualche stiramento mi sono strappato la coscia agli europei del 68 contro l'unione sovietica e non ho fatto la finale con la Jugoslavia ecco perché ero strappato ma abbiamo vinto o perso? poi abbiamo vinto sì abbiamo pareggiato la prima e poi vinto la seconda perché ne abbiamo dovuto fare due perché allora non c'era si doveva fare un'altra partita e poi c'era il sorteggio negli spogliatoi dell'arbitro se le squadre erano ancora in pareggio mamma mia senti invece ok non ti emozioni per le cose eclatanti ma per le ingiustizie ti arrabbi? le ingiustizie mi danno un po' fastidio quando capisco che ci sono delle ingiustizie neanche perché per me è fuori discussione ma per gli altri mi dà fastidio più per gli altri le ingiustizie che non che non per me per me mi arrangio da solo cioè una che io mi arrabbiai moltissimo fu Milan Santos era la coppa intercontinentale dove avevate vinto la coppa dei campioni col Benfica poi andate col Santos vincete in Italia sì cosa vincete? 4 a 1 in Italia 4 a 1 in Italia o 4 a 2 4 a 2 in Italia andate là siete in vantaggio di 2 a 0 no no vinciamo perdiamo perdiamo andiamo in vantaggio sì poi perdiamo la partita 4 a 2 con l'arbitro e poi rifacciamo con l'arbitro locale locale sì sì era locale praticamente locale è il dodicesimo uomo in campo sì e poi abbiamo fatto l'altra partita e abbiamo perso sul rigore 1 a 0 ma c'era il rigore? no no che uno si è tuffato di testa su uno che stava spingendo e l'arbitro ha fischiato il rigore quindi chiaramente abbiamo fatto perdere l'arbitro ha voluto farci perdere la partita ti sei arrabbiato lì? lì mi sono un po' arrabbiato però quella partita non l'ho giocata perché non mi ha fatto giocare quella partita e l'ho vista dalla tribuna e quindi lì ti sei leggermente arrabbiato leggermente arrabbiato come quando il Milan perse col Verona che perso uno scudetto a Verona e lì sì lì è stata un po' ti sei leggermente arrabbiato anche lì? io ero no beh sono rimasto male perché la federazione non ha consentito lo spostamento della gara in un'altra data perché Butticchi che era presidente del Milan ha andato a parlare con Franchi presidente della federazione dicendo guarda che noi abbiamo fatto una partita in Grecia abbiamo vinto la coppa delle coppe però è stato un impegno importante se ci dai un paio di giorni di riposo ma no fate tranquilli che tanto vincete lui ha capito male e quindi Verona ha vinto e ha vinto la Juve e lo scudetto e la Juve ha vinto lo scudetto dopo aver scoperto che il Milan stava perdendo ma tu pur non avendo un procuratore hai avuto offerta di andare come Gigi Riva alla Juve no allora era la società che decideva se uno doveva andare o rimanere Riva lo cercavano tutti però lui non ha mai era l'unico giocatore che ha rifiutato trasferimenti perché si era affezionato talmente al Cagliari che non ha voluto andare né al Milan né all'Inter né alla Juventus ed è riuscito a rimanere lì pur non dipendendo da lui perché se il Cagliari voleva lo poteva accedere comunque però il Cagliari i dirigenti del Cagliari non volevano rischiare di scontrarsi con i tifosi del Cagliari visto che Riva voleva rimanere lì anche lui è un grande anche lui è stato un grande giocatore certo in futuro cosa farai? beh ma non è ancora cominciato il futuro devo aspettare che cominci e così capisco cosa posso fare grazie Gianni mi hai confermato che ho scelto un idolo fantastico fantastico grazie a tutti grazie a tutti